con On Stage, una cooperativa sociale triestina, alla quale appartengono anche altri due dei feriti, tra i feriti più lievi. Cinque degli altri feriti, invece, tra cui anche quelli più gravi, appartengono allo staff fisso che segue Giovanotti per le sue tournee. Sotto shock sono tutti i lavoratori. Qui sul posto è arrivato a un certo punto nel pomeriggio il medico legale, il dottor Fulvio Costantinides, ed è stata questa, in effetti, la prima vera e tragica conferma che di tragedia si trattava e che c'era un morto, in quanto era accaduto qui al Palatriesti. Allora, Sebastiano Franco, appena il... Chieste e le perizie necessarie per capire cosa è successo. È impossibile fare ipotesi in questo momento. Ecco, so quello che so, so del ragazzo che è morto e che aveva circa vent'anni a Triestino e credo che sia al di là di... ...sapere l'organizzazione con una nota ed è stata noleggiata da una ditta di Milano. Ed è questa la struttura che ha ceduto a Cartocciano...